ok adesso andiamo a installare la ram io qua ho due ddr4 due banchi da 8 giga per un totale di 16 gigabyte a 2133 mega ok allora gli slot per quanto riguarda la ram sono questi 4 slot qua qua sotto se riuscite a leggere abbiamo le scritte dim a1 dim a2 dim b1 e dim b2 secondo quello che dice il manuale asus due slot vanno montati che è la figura centrale questa ok vanno montati su a2 e b2 quindi prendiamo la ram un banco di ram allora se fate caso se notate qui c'è una tacca questa tacca qua va inserita dove c'è quest'altra tacca ok quindi allarghiamo i fermi e in questo caso sono solo a sinistra individuiamo qual è il dim a2 e b2 quindi a2 questo e le ram vanno spinte leggermente giù questo blocco qui spingendo sale su da solo e va a bloccare il banco di memoria quindi la b2 quest'ultima e andiamo una cacciata banco di ram che controlliamo sempre la tacca se la giriamo la memoria non entra quindi alluniamo la tacca femmina con il maschio ok spingiamo leggermente ok i due banchi sono montati ok